Gentile pubblico, Estoria 2019, quindicesimo festival internazionale della storia, vi dà il benvenuto nella tenda Erodoto. Il festival è ideato organizzato dall'Associazione Culturale e Estoria con il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Associazione Italiana Editori, dell'Università degli Studi di Trieste, dell'Università degli Studi di Udine e della RAI Friuli Venezia Giulia. Grazie al sostegno delle amministrazioni pubbliche, gli sponsor privati e degli amici di Estoria cui vi invitiamo ad aderire. Il decoro floreale è a cura dell'Istituto Tecnico Agrario Giovanni Brignoli di Gradisca che ringraziamo per la collaborazione e sta per iniziare l'incontro intitolato Il contrasto alla famiglia mafiosa. Conversano Nicola Gratteri e Stefano Mensurati. L'appuntamento è trasmesso anche in streaming sul sito www.estoria.it. Scrivendo un messaggio via Whatsapp o Telegram al numero 33 11 68 29 69 è possibile inviare alla social room di Estoria le domande per i relatori. Buona storia a tutti! Grazie. Grazie, buonasera. Bellissimo colpo d'occhio eh, dottor Gratteri. Fa veramente piacere vedere così tanta gente. Allora, io partirei non da tanto lontano perché la storia della drangheta affonda nella storia dei secoli, insomma, ecco. Partirei da un sociologo americano, un certo Benfield, che alla fine degli anni cinquanta venne in Italia, tra l'altro era sposato con una donna lucana, venne appunto in Basilicata per studiare i rapporti sociali in questa regione, più in generale nel Mezzogiorno d'Italia. Era già venuto altre volte, mi è rimasto molto incuriosito, insomma, dalla predominanza della famiglia in una zona, tra l'altro, abbastanza esente dalla criminalità organizzata, per cui non stiamo parlando di zone ancora più colpite da questo fenomeno. Ecco, lui, dopo due anni di lavoro, girò per le biblioteche, intervistò le famiglie, partecipò a convegni, a riunioni, per cercare di capire un po' anche a riunioni, non dico condominali, ma quasi, proprio per cercare di capire quali fossero i rapporti interpersonali, arrivò a una conclusione che venne poi rappresentata in un volume che fu pubblicato in America nel 1958, intitolato Le basi morali di una società arretrata. Questo libro poi in Italia venne tradotto soltanto nel 1976, un libro per molti versi superato alla luce degli studi sociologici più recenti, ma ugualmente molto interessante. E uno dei punti chiave di questo libro era la determinazione del cosiddetto familismo amorale. Che cos'è il familismo amorale? Normalmente tutti noi siamo qui, insomma, in un convegno, in un festival interamente dedicato alla famiglia. Chi in Italia non riconosce il valore della famiglia, la centralità della famiglia nella società italiana, il perno della società, se vogliamo dire così, è una società composta per l'appunto da tante famiglie che trovano una maniera di convivere tra di loro rispettando certe regole e rispettandosi naturalmente tra di loro. Ecco, il familismo amorale che cos'è invece? Cos'è che aveva scoperto questo Benfield? Che si arriva a un punto in cui tutto quello che si svolge all'interno della famiglia è in assoluto predominante rispetto a tutto quello che c'è al di fuori. Per cui il familismo amorale in che consiste? Se una cosa mi conviene e mi sta bene, è utile per la mia famiglia, d'accordo. Se invece è estranea, mi può in qualche modo ostacolare, o addirittura è nemica rispetto alla mia famiglia, no, a quel punto non è più ammissibile, anche se è una regola fissata dalla convivenza civile, quindi pensiamo alle leggi, pensiamo alle convenzioni sociali e così via. Ecco, questo familismo orale non era stato accostato da Benfield al fenomeno criminale e mafioso, aveva sorpassato questa fase, lui si era soffermato soltanto sui rapporti interpersonali in una società tranquilla, era andata a visitare un paesino sulle montagne della Basilicata, però a partire da questo si può sviluppare tutto un ragionamento relativo alla predominanza del concetto di famiglia, alla distorsione del concetto di famiglia in seno alla società mafiosa. C'è un detto in Sicilia, non so se è valido anche in Calabria, dice qual è quella cosa che fa tanto male alla Sicilia e che comincia per M e finisce per A? La mamma. Questa è la risposta. In che senso? Perché la mamma, alla quale noi tutti quanti vogliamo bene, naturalmente è il centro, il nucleo della famiglia attorno al quale ruota tutto il resto. Ecco, la sovraesposizione dell'elemento familiare quindi da parte della mafia trovava, diciamo, un terreno fertile perché tutti quanti erano, diciamo, recepivano questo concetto come importante, chi, ripeto, non tiene alla propria famiglia. Era però una sovraesposizione, addirittura una santificazione della famiglia, spesso associata anche alla fede religiosa. Questa che cosa serviva? A due questioni essenzialmente. Al controllo del territorio, in primo luogo, e secondo all'esercizio del potere, quindi all'organizzazione su base familistica dell'attività criminale. Questo concetto è stato fatto proprio da tutte quante le mafie, da quella siciliana, ricordiamo le varie famiglie, insomma, no? Ma possiamo parlare anche della Camorra. Ma è stato in particolare esasperato in Calabria. Ecco, per questo noi ne parliamo questa sera con il dottor Gratteri, che forse possiamo considerare, oltre a un magistrato di punta nella lotta alla mafia, procuratore nazionale antimafia di Catanzaro, procuratore e capo dell'antimafia di Catanzaro. Ecco, però è soprattutto un grande esperto, ha studiato molto questi fenomeni, anche da un punto di vista culturale, quindi questa sera ne parleremo con lui. Allora, perché la mafia, agganciandosi al concetto di famiglia, ha ulteriormente rafforzato la propria credibilità nell'opinione pubblica, locale? Sì, ma intanto uno dei punti di forza, il punto di maggiore forza dell'andrangheta è il fatto, il dato che due o tre famiglie patriarcali formano un'organizzazione detta locale. Il locale non è il magazzino, come diceva il BK tedesco, quando facevamo l'indagine sulla strage di Usburg. Il locale è la struttura base dell'andrangheta. Così concepita, così strutturata l'andrangheta, era quasi impossibile, è quasi impossibile avere i collaboratori di giustizia DOC. Noi ancora stiamo aspettando un collaboratore di giustizia che sia un capo mafia, che diventi pentito. Ed infatti, ad esempio, se noi andiamo a leggere le statistiche del 92, la camorra aveva quasi mille collaboratori di giustizia, cosa nostra 750, l'andrangheta meno di 100. Questo vi spiega qual è la durezza, la consistenza e la graniticità della struttura. Il sangue, il vincolo di sangue, l'identità, il non disperdere il sangue. Perché questo serve? Il sangue viene sparso per regolamentare i conti, il sangue si unisce per fare alleanze. Noi ancora oggi, mentre parliamo, ci sono alcuni matrimoni combinati tra una ragazza figlia di un capo mafia e un ragazzo figlio di un capo mafia che serve a unire, a rafforzare i rapporti, le famiglie come i regnanti nel Settecento in Europa. Ma addirittura alcune faide in Calabria, le faide che sostanzialmente nascono all'interno di una stessa struttura, due blocchi di famiglie, a un certo punto vanno in contraste e si uccidono. All'interno della stessa acquisitazione, anche tra cugini, quando salta il banco, quando salta un qualcosa. E proprio quando ci sono le faide saltano completamente le regole, il codice dell'andrangheta. Perché proprio in quei casi non esiste codice, esiste solo il sangue. e noi abbiamo visto, ad esempio, suggellare la fine di una guerra di mafia che durava da 40 anni tra due blocchi di famiglie con un matrimonio. Quindi il vincolo di sangue che percorre tutta la vita, la struttura e l'assistenza dell'andrangheta. E questo sinora è servito, sinora ha dimostrato essere un modello vincente. E questo è uno dei motivi per i quali l'andrangheta è considerata in Sud America, ad esempio, una mafia credibile, una mafia che lascia poche briciole mentre mangia, che fa pochi errori e quindi è talmente credibile che in Sud America è l'unica mafia che riesce a comprare la cocaina a mille euro al chilo a fronte delle altre mafie che la comprano a mille e ottocento euro al chilo ed è una delle pochissime organizzazioni che riesce a comprare la cocaina in conto vendita. Cioè prima arriva la cocaina e poi la pagano. Cosa ad esempio che non è stata consentita o che è stata consentita in parte a Cosa Nostra quando ad esempio qualche anno fa in un grosso traffico internazionale stupefacente a un certo punto i cartelli colombiani sequestrano un capo decina di Palermo Centro Micheli Salvatore lo stavano per uccidere perché i soldi non arrivavano dalla Sicilia per pagare sta partita di cocaina e sono intervenuti anche dei capi mandamento di Trapani, di Marsala niente da fare, lo stavano per uccidere è bastata la parola di un broker dell'andrangheta come Pannunzi Roberto per intenderci stiamo parlando di un soggetto che aveva comprato una nave di 110 metri per fare la cocaina in Italia stiamo parlando di un soggetto che viaggiava con una valigia piena di dollari ogni volta che veniva fermato anche da una banda dell'esercito corrotto e la polizia corrotta lui in cambio gli dava la valigia e passava o viaggiava con un diamante al collo se non bastava la valigia gli dava il diamante e lui mi diceva quello era il mio salvavita quindi questo punto di forza viene sempre continuamente coltivato all'interno dell'andrangheta perché l'osservanza ortodossa delle regole il tenere tutti come tanti soldatini rende forte la struttura ad esempio posso continuare o mi fermo? no 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 va bene magari intanto faccio qualche modo io vado a ruota libera ad esempio se un giorno in Italia dovessero finire le mafie la prima mafia che potrebbe scomparire in teoria è la camorra perché se voi andate a studiare ed approcciarvi alla camorra vedete che la camorra è sempre meno mafia ed è sempre più gangsterismo è sempre più criminalità organizzata o criminalità comune che è cosa diversa dalla mafia vi faccio un esempio per noi è inconcepibile pensare ad una mafia dove consente di ammazzare o far ammazzare dieci persone per contendersi una piazza quanto a questo tendone è fuori dalla logica cioè non esiste intanto ad esempio l'andrangheta non vende più al dettaglio droga da almeno 25 anni da più di 25 anni l'andrangheta ha subdelegato la vendita al dettaglio della droga agli africani ai nord africani ai nigeriani non vende più per strada l'andrangheta vende all'ingrosso la cocaina da almeno da quasi 30 anni vende cocaina a Cosa Nostra di Palermo a Cosa Nostra di Catania quindi già da qui capite il salto di qualità già capite come stanno le cose come è cambiato lo scenario sul piano nazionale internazionale rispetto a quello che i media o certa stampa vi racconta e allora quando noi riusciamo a vedere che quindi l'andrangheta la camorra è sempre più gangsterismo perché? perché non ci sono leader in grado di tenere tutti come tanti soldatini invece nell'andrangheta c'è il culto delle regole l'osservanza ortodossa delle regole tenere tutti come tanti soldatini cosa vuol dire? vuol dire che quando si va a votare e c'è la lista A e la lista B basta che il capo mafia dice votiamo per la lista A o per la lista B tutti gli altri voteranno per la lista A o per la lista B quindi anche se le mafie e se l'andrangheta è una minoranza e partecipa in modo attivo perché le mafie non stanno mai all'opposizione le mafie puntano sempre di votare sul cavallo vincente e se sbagliano di puntare sul cavallo vincente nel corso del tempo cercheranno di cambiare traiettoria ma se un capo mafia ha concorso con i suoi uomini con il suo elettorato a votare il sindaco a fare leggere un sindaco poi concorrerà anche alla co-gestione della cosa pubblica concorrendo a nominare il tecnico comunale concorrendo a nominare il segretario comunale questo grazie anche alla Bassanini che è stata una pessima legge che poi sostanzialmente è servita solo a favorire le mafie perché se voi ad esempio pensate che la Bassanini ha consentito l'abolizione del Coreco che era il comitato regionale di controllo che c'era in ogni prefettura sembrava la foglia di fico invece era importante perché voi non avete idea quante delibere passano senza che nessuno le controlla perché non è che tutto passa poi al vaglio della magistratura ma quando passa al vaglio della magistratura già il danno è fatto invece il comitato regionale di controllo era importante nelle prefetture perché il sindaco almeno aveva l'alibi di dire guarda è inutile che approvo questa delibera tanto il Coreco non me la approva oppure il fatto che il sindaco può scegliere il tecnico comunale cosa vuol dire vuol dire che il sindaco siccome ha accettato i voti del capo mafia il sindaco consentirà di scegliere assieme il tecnico comunale e quando c'è un lavoro di sommorgenza tipo una una frana di dieci metri cubi dove la norma dice che bisogna chiamare l'impresa prontamente reperibile l'impresa prontamente reperibile è sempre quella è sempre l'altra a quel punto invece di dieci metri cubi scriveremo che abbiamo spostato i diecimila metri cubi e quindi poi ci serve il tecnico comunale per fare una speculazione edilizia per fare una variante al piano regolatore quel terreno agricolo poi diventerà edificabile eccetera eccetera quindi vedete certe volte certe norme come si incastrano e vengono fatti male e hanno l'effetto opposto spesso quando si invoca la sburocratizzazione certe volte certi indirizzi poi certe modifiche certi aggiustamenti sono peggio rispetto a prima e quello che volevo chiedere a proposito lei faceva questo confronto tra come agisce la camorra soprattutto negli ultimi tempi ormai sparano in città inseguono i feriti all'interno dell'ospedale per finire il loro lavoro feriscono quasi a morte una bambina in centro a Napoli ecco queste cose in Calabria non succedono e questo serve probabilmente anche a mantenere bassa l'attenzione dell'opinione pubblica e della politica perché poi è chiaro che le forze dell'ordine magistrati continuano a fare il loro lavoro allora cosa è scattato cosa è successo per esempio quando c'è stata la strage di Duisburg è stato un errore o era inevitabile diciamo un'azione di quel tipo per l'andrangheta per ribadire il proprio controllo del territorio in Germania allora intanto le mafie per esistere hanno bisogno del consenso popolare se non c'è il consenso popolare le mafie non esistono le mafie sono un'altra cosa le mafie non sono una struttura statica non stanno ferme lì in fondo noi avanziamo le mafie avanzano le mafie sono tra queste file e man mano che voi avanzate loro avanzano le mafie non sono mai regate mutano col mutare sociale per non essere identificabili e abbattibili si adeguano sentono l'odore del cambiamento e loro cambiano cambiare tutto il modus operandi ma non cambiare perché poi l'obiettivo è l'arricchimento e il potere quindi ad esempio noi abbiamo un'intercettazione ambientale molto importante molto significativa la più importante che abbiamo mai ascoltato e vi assicuro che ne ho ascoltate migliaia anche di omicidi anche di traffici di tonnellate di cocaina però c'è una che è fondamentale e dice questo c'era in un paese della Locride una faida tra due famiglie a un certo punto un diciamo chiamiamolo un pubblico ministero dell'Andrangheta un emissario che parte da San Luca dove c'è il crimine dove c'è l'Olimpo dell'Andrangheta e scende all'Ocri incontra un capo delle due famiglie e gli dice senti quando voi sparate alle serrande quando voi bruciate le macchine quando voi terrorizzate il popolo il popolo vi abbandona e quello che avete fatto in trent'anni vi ha alzato una mattina e lo perderete quindi lui sta parlando del consenso popolare se voi terrorizzate il popolo il popolo vi abbandona ad esempio la signora sa che nell'appartamento di fronte c'è un latitante ma non parla ma se la signora viene terrorizzata perché ha paura di uscire ogni giorno perché non sa se l'ammazzano in un conflitto a fuoco è ovvio che o in modo anonimo o con lettere anonimi in qualche modo lo farà capire le forze dell'ordine oppure gli scriverà o dirà guarda è quel ristorante in realtà vedi che è stato costruito e gestito con i soldi della cocaina eccetera eccetera quindi il consenso popolare è fondamentale senza consenso non ci sono mafie c'è criminalità organizzata criminalità comune gangsterismo criminalità comune ma non mafia allora perché è successo Duisburg proprio perché come accennavo prima le faide sono un'altra cosa le faide non c'entrano nulla con con la struttura dell'andrangheta le faide sono un fatto di sangue è il sangue che chiamano sangue tu ammazzi mio figlio e ti ammazzo l'altro eccetera eccetera e allora cosa è accaduto lì Duisburg è stato un grave errore per l'andrangheta ed infatti dopo quell'errore la faida sono stati uccisi sei giovani a Duisburg il 15 agosto la mattina verso le sei mi chiamano dalla Germania dice dottore è successo questo dice venga venga in Germania vado lì e vedo che nel portafogli di uno dei ragazzi c'era un'immagine di San Michele Arcangelo con la testa bruciata San Michele Arcangelo è il protettore dell'andrangheta e i riti di affiliazione si fanno con l'immagine e anche della Polizia di Stato infatti quest'ora stiamo studiando se è stata prima la Polizia di Stato o prima l'andrangheta ad adottare San Michele Arcangelo come protettore e allora stiamo vedendo questa dico no più che altro bisogna capire per chi parte c'è San Michele Arcangelo San Michele Arcangelo e allora vediamo poi il basso risultato finale e dico se se c'è questa immagine di San Michele Arcangelo questo giovane è stato battezzato qui in questo locale entro dentro il locale da Bruno e vedo un grande tavolo una credenza e sopra la credenza una statua di San Michele Arcangelo dico guardate qui si fanno le riunioni di indrangheta mettiamo delle microspie nei locali pubblici no non è possibile in Germania mettere microspie nei locali pubblici e dico e allora come facciamo come facciamo a capire a trovare il filo d'arriano e poi andiamo nella sede del BK e incomincio a sentire delle intercettazioni di italiani e sento locale ricordate che il locale non è il magazzino il locale è la struttura quindi qui ci sono delle quindi qui è radicata l'andrangheta e la situazione è sfuggita di mano perché io proprio dieci anni prima era andato a dirgli guardate che qui c'è l'andrangheta e non mi hanno ascoltato dico ora qui avete i locali la faida la strage è culminata il 15 agosto il 2 settembre in occasione della festa della Madonna di Polsi che è un santuario mariana a un'ora da San Luca dove è un santuario molto frequentato pensate che sono circa 40.000 fedeli l'anno e tra questi 40.000 fedeli sono migliaia di indranghetisti che vanno per la devozione della Madonna perché anche sono molto fedeli sono molto devoti alla Madonna di Polsi e in quella settimana l'elite dell'andrangheta chiama i vertici delle due famiglie nirta strangio da un lato pelle vottere dall'altro li fa in sedere attorno al tavolo e li obbliga alla pace perché dice no non ci possiamo permettere questo lusso se voi avete dei problemi risolveteli in Italia ma non all'estero all'estero si fa business si fanno affari all'estero dobbiamo vendere cocaina e riciclare i soldi della cocaina ma niente morti ed infatti poi è stata istituita dal crime di San Luca una figura di idranghetista che vive in Germania come soggetto come termoregolatore come sensore nel caso in cui tra famiglia o tra blocchi di famiglia dovesse succedere qualcosa dovesse esserci tensione perché un'altra ad Usburg non ci potrà essere perché ne va della credibilità dell'immagine del buon nome dell'andrangheta ma soprattutto dei soldi soprattutto del business quindi le faide fanno saltare il banco al codice dell'andrangheta ecco a proposito delle faide io vorrei qui introdurre un altro aspetto si parlava del concetto di famiglia siamo partiti da quello parlare del ruolo della donna all'interno della società mafiosa normalmente diciamo non vediamo donne che occupino ruoli di preminenza capi mafia donne magari è successo più che altro nella camorra quando i capi mafia venivano arrestati la moglie assumeva un ruolo importante però nell'andrangheta magari è un ruolo più defilato ma ugualmente molto importante ce lo vuole raccontare si in pratica non possiamo parlare di donne di indrangheta come ad esempio anche per i oltre alla campagna anche per i cartelli sudamericani cioè in Colombia muore il marito il compagno che è un narcotrafficante prende il posto la moglie o la compagna in Calabria non è così cioè le donne hanno un ruolo le vediamo sempre più nel traffico di droga hanno un ruolo nelle estorsioni cioè vanno nei negozi a chiedere soldi perché il marito è detenuto vengono utilizzate per portare le imbasciate in carcere vengono ma il ruolo importante è fondamentale le donne ce l'hanno nelle faide le donne sono il motore delle faide sono quelle che caricano gli uomini come le sveglie sono quelle che dicono a sera mentre si è attorno al tavolo a cena tu mangi e mio padre mangia terra tu mangi e mio fratello mangia terra tu non sei un uomo tu sei un uomo così non sei un uomo perché non hai coraggio non sai vendicare il sangue dei tuoi che sono stati ammazzati come cani e quindi è un continuo è un martello pneumatico è un continuo caricare gli uomini noi a proposito di stragi di Usburg abbiamo visto le donne essere molto attive nella comunicazione su internet attraverso internet comunicavano gli ordini le strategie e la logistica in Germania noi infatti sapevamo da prima che stava succedendo qualcosa perché avevamo delle decilazioni eravamo riusciti a mettere un virus dentro un computer e noi avevamo capito che stavano combinando qualcosa perché cercavano parrucche cicatrici quelli che usano gli attori macchine blindate armi e noi le avevamo mandate alla polizia tedesca tutte queste intercessioni ambientali non hanno avuto tempo di studiarle e di approfondire noi e quindi le donne le vediamo molto attive e quando mettendo gli uomini nel portabagaglio li portavano da una parte tra l'altra per prepararsi agli attacchi di guerra addirittura in un'altra faida avvenuta anni prima abbiamo documentato delle donne vestite da uomo che andavano a sparare quindi nelle faide le donne sono fondamentali sono quelle che caricano gli uomini come le sveglie parliamo del rapporto invece tra genitori e figli no? naturalmente noi dobbiamo partire dal presupposto che i ragazzi siano tutti quanti recuperabili lei non a caso spesso va nelle scuole a fare lezioni tra l'altro una volta l'ho anche accompagnato è stato sorprendente perché poi alla fine di questa sua conferenza nella scuola mi ha detto hai visto quelli lì in prima fila quei ragazzi quelli sono figli di persone che io ho messo in galera e che in molti casi addirittura erano suoi compagni di infanzia suoi compagni di giochi quando erano ragazzi e dicevo l'educazione è importante però quando si nasce all'interno di una di queste famiglie si incomincia già con un marchio non perché dall'esterno vieni considerato male no perché cresci in questo tipo in questo brodo di cultura assimili un certo modo di pensare e quindi sei predisposto naturalmente a comportarti anche tu così da grande anche proprio per il senso dell'unità della famiglia ecco su questo volevo chiederle appunto i figli come vengono trattati in una famiglia in drangheta allora c'è una regola dell'andrangheta che quando nasce il figlio di un dranghetista il figlio maschio di un dranghetista poi lo va a trovare il capo locale il capo dell'organizzazione gli va a fare vista quindi grande onore perché il capo è andato a fare vista a questo bambino al capo locale gli si dà un paio di forbicine e queste forbicine servono per tagliare le unghie al bambino questa è la prima forma di affiliazione dell'andrangheta questo bambino si chiamerà Piuma ed è un predestinato ad essere andranghetista e si entra nell'andrangheta già all'età di 14 anni si è andranghetista si è picciotto riscio ora c'è un'altra consuetudine nell'andrangheta che uno uno dei figli maschi non deve essere andranghetista uno dei figli maschi deve essere lasciato fuori dall'andrangheta perché è un predestinato a diventare un professionista ma non essere battezzato non essere sottoposto alle regole dell'andrangheta che le regole dell'andrangheta sono tremende perché quando c'è il rito di affiliazione che è il contrasto onorato cioè il giovane che ha fatto un tirocinio che dura un anno e un anno e mezzo e poi dopo questo tirocinio risulta essere pronto in che consiste il tirocinio il tirocinio consiste in questo allora noi tutti siamo contrasti contrasti vuol dire persone che non hanno nulla a che fare con l'andrangheta il contrasto onorato invece è un giovane è un fan che aspira ad entrare a far parte dell'andrangheta questo giovane in genere si accompagna ad un andranghetista già fatto un adulto in genere gli fa da autista però nel corso di quest'anno e mezzo viene messo alla prova tipo senti lo vedi quello con la maglia rossa domani non ci deve essere più questo giovane se è distinto risponde ma perché cosa ti ha fatto perché lo dobbiamo ammazzare questo è già fuori scartato perché uno non ha l'attitudine dal comando due non è freddo tre un pauroso stanotte dobbiamo andare a mettere una bomba nella caserma dei carabinieri ma caserma dei carabinieri ma ti rendi conto e poi succede una guerra e poi ci fanno perquisizioni quello è già fuori quindi bisogna dimostrare l'attitudine ad essere capace perché quando viene portato al caspetto del capo locale per essere battezzato come picciotto riscio il selezionatore come selezionatore di calcio quello che lo porta il Londra inglese ha già fatto che lo porta davanti al capo locale per battezzarlo se poi questo giovane si rivela un mollaccione un non unardito non capace quello che lo ha portato al caspetto del capo locale come minimo gli viene tolta una dote viene abbassato di dote perde prestigio se gli va bene ma potrebbe anche essere ammazzato perché gli ha portato dentro l'organizzazione un mollaccione quindi il criterio di selezione è molto duro e allora i figli stiamo parlando ovviamente di indrangheta doc di indrangheta di serie A stiamo parlando quando si hanno dei figli se maschi sono come delle bombe atomiche tu tocchi me io ho tre figli maschi ho tre bombe atomiche quando nascono femmine si cerca di combinare dei matrimoni con altri perché un indranghetista un giovane rampollo di indrangheta vuole per forza avere il figlio maschio ci vuole il figlio maschio perché deve continuare la dinastia la discendenza mafiosa no? e modi di pensare non è che si discostano molto della cosiddetta società civile no? e quindi questo questo giovane controlla continua la dinastia mafiosa e il rapporto di questi figli vivono in funzione guardando l'operato del padre il modo soperante del padre loro cercano di emularlo anzi è possibile di migliorare di essere sempre più più capaci più duri più pronti ed utili alle modifiche perché ovviamente oggi i capi mafia sono i figli dei sequestratori di persona oggi i capi mafia sono i figli di quelli che hanno che sono venuti qui nel nord d'Italia ad investire e quindi sono laureati perché ad esempio certe volte quando vado al nord no? tipo mi ricordo ad esempio noi da più di dieci anni andiamo col professore Nicaso in Emilia Romagna e lui ha una rassegna che dura una settimana parla di mafia in tutti i paesi dell'Emilia Romagna io ricordo la prima volta che mi ha invitato più di dieci anni fa c'era Confindustria Confcommercio c'erano i parlamentari stiamo parlando dieci dodici anni fa e dico a quei paesi guardate che qui c'è l'andrangheta no ma come si permette lei a dire che qui c'è l'andrangheta dico noi abbiamo gli anticorpi noi abbiamo combattuto il nazismo noi abbiamo combattuto il fascismo come si permette lei dico guardi onorevole l'andranghetista non è che viene qua con la svastica o col fez l'andranghetista mangia come lei veste come lei ha la laurea come lei ha due differenze una che ha l'accento calabrese come ce l'ho io due viene con valigie pieni di soldi che lei non ha e quindi viene qui per comprare viene qui per offrire prestazioni con ribassi del 30 40% questo farà l'andrangheta in provincia di Reggio Emilia perché si è domandato onorevole perché ci sono 7000 appartamenti vuoti l'imprenditore normale cosa fa deve fare un palazzo a 5 piani il metà lo deve vendere prima di iniziare il lavoro e l'altro metà lo deve vendere prima di completare l'opera come mai ci sono 7000 appartamenti vuoti in provincia di Reggio Emilia come mai c'è la crisi economica in tutta Italia in provincia di Reggio Emilia c'era l'aumento dei depositi era del 25% nelle banche studiate questi fenomeni e vi darete la risposta dopo 4-5 anni ci hanno chiesto scusa perché effettivamente avevano sbattuto con la faccia nel muro che effettivamente lì c'era lì c'era l'andrangheta sento le voglio fare un'ultima domanda perché abbiamo ancora un po' di tempo ma voglio lasciare spazio al pubblico che sicuramente sarà interessato a parlare con lei parliamo di un altro aspetto lei ha dedicato a questo anche un libro è stato pubblicato da Raieri sull'influenza della cinematografia qui ci ricolleghiamo sempre alla questione della famiglia l'influenza della cinematografia nel raccontare la mafia a modo suo quindi volevo intanto capire se è stata un'influenza positiva nel senso che ci ha aperto gli occhi su certe realtà o negativa perché appunto la dipinta in maniera irreale probabilmente anche pericolosa c'è chi parla di suggestioni che avrebbero insomma colpito tanti giovani che si sarebbero sentiti quasi emuli potenziali dei loro eroi del grande schermo abbiamo incominciato con la saga del padrino a tutti quanti noi è piaciuto vedere De Niro Marlon Brando eccetera grandi attori ecco però tutto questo che cosa ha significato come è stata dipinta l'Italia c'è solo un problema di cattiva immagine per l'Italia all'estero o c'è anche dell'altro secondo lei allora noi dal punto di vista della conoscenza e delle mafie siamo tutti cresciuti col padrino il padrino è una storia che non esiste che non è mai esistita dal punto di vista artistico è un capolavoro ma il padrino è un danno per la conoscenza e le mafie perché le mafie non sono il padrino le mafie non hanno onore i mafiosi sono vigliacchi i mafiosi sono persone che sparano alle spalle che tradiscono che violentano le donne alcune donne di mafiosi detenuti sono state violentate dal capo mafio perché il re non fa corna le regole sono perché gli altri li osservino ad esempio pochi di voi sanno che la storia del padrino è stata modificata da Cosa Nostra in origine la storia del padrino non era in quel modo Cosa Nostra ha suggerito tra virgolette alcuni attori del film padrino molti termini non vengono usati dentro Cosa Nostra si usa il termine famiglia che è un termine più dolce si usano anche gli stessi attori hanno dei nomi accattivanti che servono a rendere questa storia vincente e affascinante ma il padrino poi è arte ma come risultato come impatto sulla mente delle persone è stato veleno ma ancora più veleno sono le fiction che voi vedete negli ultimi dieci anni nelle televisioni italiane ma veleno per i ragazzi perché noi vediamo sempre più davanti alle scuole dei bambini che vestono che hanno il taglio dei capelli e che parlano esattamente come questi attori che esternano la violenza e ogni serie televisiva sembra la saga della violenza quest'anno è più violento dell'anno prima e l'anno prossimo sarà più violenta di quest'anno perché c'è anche la situazione alla violenza alle atrocità e allora il messaggio qual è? se io davanti alle scuole del liceo davanti alle scuole medie soprattutto vedo dei ragazzini che vestono che hanno il taglio dei capelli che camminano come Savastano mi spiegate dov'è l'arte mi spiegate a cosa serve qual è il prodotto qual è il risultato qual è l'impatto che ha sul piano sociale e sul piano educativo quindi è ovvio che noi siamo molto ma molto critici al punto che abbiamo pensato di scrivere proprio un libro che ci ha commissionato Rai Eri proprio su questo perché anche la Rai è preoccupata di questo tipo di cinematografia e infatti poi ci ha chiesto di fare un documentario abbiamo fatto un documentario crimine infinito che vi invito ad andare a scaricarvi su internet a guardarvelo dove io e il professor Nicasso spieghiamo dal punto di vista rigorosamente storico cos'è l'Andrangheta bene penso ci possiamo fermare qui e dare spazio alle domande non so se qualcuno grazie prego risposte brevi la ringrazio per essere tornato a Gorizia e per quello che fa le volevo chiedere il legame che c'è e ci può essere fra l'Andrangheta e la massoneria glielo dico perché il giudice Palermo l'ex giudice Palermo mi ha confidato e si è detto convinto che la mafia in particolare non l'Andrangheta è un pupazzo in mano alla massoneria deviata glielo è chiaro è chiaro ma con questa domanda mi permetta anche di ringraziare la procura di Gorizia e la finanza di Gorizia che ha dato avvio a una indagine coraggiosa e che il procuratore di Gorizia non ha esitato a definire una situazione un'indagine su di una situazione che ha definito senza mezzi termini una metastasi della società di questa regione la ringrazio grazie allora questa questa domanda mi consente di parlare di parlare della Santa la Santa è la prima dote della società maggiore non abbiamo avuto tempo per spiegarvi il codice dell'Andrangheta tutte le strutture le figure all'interno dell'Andrangheta però nel 70 nasce la Santa la Santa consente alla doppia affiliazione nell'Andrangheta e nella massonaria che noi per comodità chiamiamo massone deviata cioè è possibile che all'inizio erano solo 33 e poi c'è stata una crescita enorme di richieste per di entrare a far parte della massonaria che sono state create anche altre doti come il Vangelo il Quartino il Trequartino e c'è immaginato un cono capovolto man mano che noi saliamo sempre più elite dell'Andrangheta conosce i segreti e la Santa quindi consente ad un capomafia ad un Andrangheta di entrare a far parte della massonaria entrare nella massonaria vuol dire avere contatti con i quali della pubblica amministrazione con medici ingegneri avvocati forze dell'ordine e anche magistrati perché alcuni collaboratori di giustizia ci hanno spiegato che all'orecchio del Gran Maestro cioè incappucciati c'erano anche dei magistrati quindi voi capite il grande salto di qualità che ha fatto l'Andrangheta che colpevolmente è stata sottovalutata nel corso dei decenni dai miei colleghi dalle forze dell'ordine e dai giornalisti da storici e da professori universitarie quindi esiste questo rapporto ed è sempre più forte ed è più diffuso di quanto si immagini non è un mistero è una certezza prego sono arrivate due domande dai social quali sono le ragioni del consenso popolare che tiene vivo le mafie una la seconda invece può succedere che un figlio si ribelli al proprio destino di Andranghetista se sì ci sono sistemi per invogliare una persona collaborare con la giustizia per salvare la propria vita e quella dei familiari grazie allora la prima qual era? ah il consenso come si dice allora ti faccio un esempio semplicissimo quando ci sono le elezioni comunali regionali o politiche il candidato si presenta per strada sulla piazza tre mesi prima quattro mesi prima e il giorno delle elezioni magari cambia pure il numero di telefono il capo mafia sta sul territorio 365 giorni d'anno quindi il politico non dà risposte il capo mafia dà risposte dà risposte sbagliate distorte clientelari tutto quello che vuoi ma ti dà risposte parziali di sottosviluppo di dipendenza ma ti dà risposte e quindi la gente esasperata disperata guardate ci sono alcuni paesi in Calabria dove la disoccupazione è del 50% cioè negli ultimi anni la Calabria è scesa sotto i 2 milioni di abitanti 500 mila persone sono emigrate cioè da un paio di anni è ricominciata l'emigrazione come negli anni 60 cioè c'è la fame che si taglia affette quindi o mantiene la dignità nella povertà o diventa un corriere di cocaina poi la seconda qual era? se il figlio si può ribellare o no si può rompere abbiamo degli esempi di scuola intanto da diversi anni con la procura dei minori di Reggio Calabria l'abbiamo proposto io ricordo quando ero tanti anni fa un dieci anni fa quando ero sostituto procuratore di Reggio Calabria abbiamo tolto la patria potestà ai mafiosi sui figli cioè un padre che è latitante di dieci anni cosa può dare un figlio? quindi gli abbiamo tolto la patria potestà e gli abbiamo dato gli affidamenti fuori dalla Calabria a bambini o ad adolescenti? ai bambini proprio bambini e anche adolescenti dei minori comunque e li abbiamo in alcuni casi l'operazione è riuscita in altri no perché poi sono tornati e hanno incominciato a fare nuovamente gli indranghettisti però è possibile spesso riesci se te ne vai dalla Calabria lontano con la scusa di andare all'università fuori certe volte funziona ma certe volte vai lì e oltre a fare lo studente fai anche l'indranghettista perché lei dice spesso che l'indranghettista muore da indranghettista insomma sì l'indranghettista essere indranghettista quando mi si chiede ma la mafia finirà dico guardi con un sistema nel rispetto alla costruzione modificando il codice penale di procedura penale ordinamento penitenziario nel rispetto alla costruzione noi nell'arco di pochi anni potremmo abbattere le mafie dell'80% allora la domanda successiva sto facendo alla marzullo la domanda successiva è questa ma allora perché non è possibile sconfiggere le mafie al 100% perché io penso che in ognuno di noi c'è un piccolo indranghettista se voi fate un esame di coscienza e e e fate un ripercorrete la vostra vita quante volte vi è capitato nel mondo del lavoro un compagno di università di scuola che ha fatto gli stessi studi avete vinto lo stesso concorso siete arrivati a un certo punto assieme e poi l'altro è andato più avanti di voi perché magari ha fatto il lacché il maggiordomo perché ha fatto altre cose ha fatto lo sgambetto e allora dentro vi scatta la reazione che è una reazione mafiosa altre domande ci sono questi due signori poi c'è l'altro accanto prego si sente o no da quello che le risulta in Friuli ci sono famiglie mafiose? guardi io circa dieci anni fa ho fatto un'indagine per un traffico di droga ed era abbastanza consistente qui arrivavano decine di chili per volta di cocaina e poi c'è stato un collaboratore di giustizia che ci ha spiegato che c'erano delle organizzazioni qui delle strutture base io penso io non sono un esperto di questo territorio non penso che ci sia una situazione strutturata per dire è mafia però ovviamente siccome la media dei tossicodipendenti non è diversa in Friuli o nel 6 giugli di esperti del territorio siccome la cocaina non si vende al supermercato c'erano le organizzazioni criminali dranghetiste e camorrisi che vengono qui a vendere cocaina il problema è che con i soldi della cocaina che voi comprate poi i soldi restano qui perché poi comprono alberghi ristoranti pizzerie e quindi si insediano e vi inquinino il territorio e fanno riciclaggio da questo ragionamento mi viene in mente una domanda lei però è ferocemente contrario alla legalizzazione della droga adesso diceva la droga non si vende al supermercato quindi questi si arricchiscono eccetera quelli favorevoli alla legalizzazione sostengono appunto che in questo modo si sottrarrebbero questo business alla mafia grazie della domanda allora perché fatta apposta ogni tanto ciclica no vabbè lasciamolo a terra è il mio che è caduto ogni tanto in Parlamento siccome non c'è altro da fare la cosa più urgente ogni 4-5 mesi 6 mesi è discutere della legalizzazione delle cosiddette droghe leggere intanto dal punto di vista scientifico non esistono le droghe leggere droghe pesanti perché ormai la marijuana non è più la marijuana dei figli dei fiori il THC è diverso e quasi ha un effetto stupefacente 4 volte in più rispetto alla marijuana che si vendeva negli anni 70 perché le piante di marijuana sono modificate geneticamente per resistere agli agenti atmosferici e allora vediamo cosa dicono quelli che sono a favore della legalizzazione delle cose leggere delle droghe leggere allora uno dice se noi legalizziamo le droghe leggere allontaniamo i giovani dalla criminalità organizzata vediamo perché non è vero la legge questo disegno di legge dice che la marijuana può essere venduta in farmacia a chi ha compiuto 18 anni e va in farmacia con un certificato medico che attesti la sua tossicodipendenta ma voi sapete bene che la marijuana si consuma nelle scuole medie e allora mi dite i ragazzi da 10 anni a 17 anni 11 mesi e 29 giorni dove vanno a comprarla se non possono andare a comprarla in farmacia e quindi i giovani continueranno ad andare a comprare la decamità organizzata seconda cosa dice se noi legalizziamo le droghe leggere le forze dell'ordine anziché perdere tempo appresso alle organizzazioni che vendono marijuana possono andare a impegnarsi in cose più serie e più importanti anche questo non è vero le organizzazioni che vendono droga in una piazza mettiamo il caso in cui questo tendone sia una piazza dove si vende la droga chi vende droga si comporta esattamente come un negozio in generi elementari nei generi elementari si vende pane pasta olio aceto sale l'organizzazione che controlla questa piazza vende cocaina eroina marijuana hashish ecstasy legalizzando marijuana e hashish resta cocaina eroina ed ecstasy quindi le forze dell'ordine devono comunque cercare di contrastare il traffico che avviene in questa piazza non risolveremo stessi problemi cos'altro dicono se noi legalizziamo le cosiddette droghe leggere lo Stato incasserà dalla vendita dalle tasse sulla vendita della marijuana incasserà 4 miliardi e mezzo di euro l'anno è lo stesso ragionamento che è stato fatto anni fa quando si è regolamentato la distribuzione l'autorizzazione alle slot machine nei bar vi ricordate allora lo Stato avrebbe incassato a 2 miliardi e mezzo però oggi nessuno va a studiare a fare il calcolo quanti malati di ludopatia ci sono nei centri specializzati e quindi spese a carico della sanità pubblica di persone malate non solo ragazzi ma anche anziani che si giocano la pensione la prima settimana del mese e che poi rubano in casa rubano loro della moglie picchiano la moglie esattamente come fanno i figli dei figli tossicodipendenti la stessa cosa quindi è stupido dire che è un motivo per fare cassa e poi un'ultima cosa e concludo no altre due cose e concludo però queste sono cose importanti che mi interessa molto parlare vedo che sono tanti ragazzi ed è importante che sappiano queste cose allora poi si dice secondo lo studio fatto sempre da chi è favorevole all'egrazzazione della marijuana e dell'ascese una bustina cioè un grammo di marijuana in farmacia costerà 12 euro 12 euro facciamo il finta che costa 10 euro facciamo lo sconto ma se al mercato nero costa 4 euro 5 euro un grammo per quale motivo deve andare a comprare in farmacia 12 euro quindi sarebbe sarebbe comunque fuori mercato anche quando va a regime se invece di 12 la portiamo a 10 c'è sempre il 50% di differenza ma se la gente per risparmiare va a fare la benzina al service va a comprarsi la marijuana al doppio è un non senso è un fuori mercato un'ultima cosa che mi interessa rivolta soprattutto ai ragazzi ai giovani allora l'uso sistematico della marijuana porta alla diminuzione dello spessore della corteccia cerebrale la corteccia cerebrale è la parte del cervello dove risiede la memoria infatti voi vedete ragazzi alle 10 di mattina che stavano come dei pugili suonati ed è la parte cerebrale che poi non ricresce quindi e porta ad un aumento da adulti della schizofrenia di aumento dei incidenti stradali aumento di 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 violenza secondo studi fatti dall'Università del Colorado tutti gli indici di violenza aumentano con l'uso sistematico della marijuana quindi chiunque vi viene a parlare di queste cose prima di di abboccare tutto quello che vi dite documentatevi non andiamo a fare le mode dell'essere progressisti ad ogni cosa perché se no siamo dei retrogradi se non accettiamo queste cose l'altra volta in una trasmissione mi pare carta bianca c'era un un senatore della Repubblica Italiana che parlava addirittura della legalizzazione della cocaina dico scusi onorevole volevo chiedere una cosa ma mettiamo il caso in cui l'Italia legalizza la cocaina dove la compriamo la cocaina perché in nessuna parte del mondo è legale cioè gli unici tre paesi al mondo dove si produce la cocaina è è Colombia Bolivia e Perù siccome questi tre stati non la metti in vendita lei dovrebbe lo Stato italiano dovrebbe andare a comprarla o dall'Ebbacrim dalle organizzazioni criminali che sono nella foresta amazzonica e andare lì a fare un contratto di fornitura di una nave al mese per l'Italia di cocaina quindi c'è la cosa terribile io non ve l'ho detta per sorridere ve la dico per dirvi la paura che mi fanno certe persone che hanno potere che stanno sopra le nostre teste che vengono pagati tanto e sono in grado senza pudore senza rossore di andare in televisione e dire di queste sciocchezze il giorno dopo non succede nulla perché è come acqua fresca la cosa più grave è che non ci indigniamo più che c'è una suefazione la cosa più grave è che nel mondo occidentale in Europa in Italia in particolare c'è un abbassamento della morale dell'etica spaventoso questo è il declino della cultura occidentale o della cultura cristiana che sarà fagogitata da altre culture molto più determinate molto più disciplinate rispetto alle nostre quindi attenzione ad assofarci torniamo ad essere a tenere la schiena dritta torniamo a occuparci di noi di tutto quello che accade ricominciamo a occuparci della cosa pubblica finiamola con le barzallette o con chi la spara più grossa spegniamo per un po' sti social per favore e incominciamo a parlare in lingua italiana nuovamente e incominciamo a parlare allora c'è spazio per un'ultima domanda e poi dobbiamo passare c'è il signore qui in terza fila se possiamo andare col microfono avete visto? scusì c'è questo signore qui in terza fila facciamo fare un'ultima domanda chi ha il microfono? ah c'è anche lui lì? va bene allora due domande mi raccomando di corsa che siamo in ritardo prego perché chi denuncia la mafia spesso e volentieri deve essere costretto ad abbandonare la propria terra soprattutto incoraggiato dalla magistratura stessa guarda questo non mi risulta perché se tu vuoi se tu hai delle cose da raccontare che mettono a repentaglio la tua vita tu puoi stare protetto nel luogo dove hai subito la violenza hai subito l'estorsione ad esempio il dramma sai qual è quando tu vedi spesso accade che tu vedi in televisione degli ex collaboratori di giustizia che vanno in televisione e fanno una recita senza contraddittorio dicendo che lo Stato li ha abbandonati che loro hanno dichiarato fatto dichiarazioni per dieci omicidi venti estorsione e ora è stato messo sulla strada perché spesso la messa non la si racconta tutta spesso chi viene sottoposto a produzione e poi non si attiene a quelli che sono le prescrizioni date perché tu quando diventi collaboratore di giustizia o testimone di giustizia firmi un contratto e il contratto ti dice che tu non devi chiamare i compari non devi chiamare in Calabria in Sicilia in Campania anche se devi andare in bagno devi concordarla con il referente dell'ufficio di protezione della provincia di Gorizia che non devi rilevelare mai la tua identità se tu non ti attieni a queste cose poi ti ammazzano o poi alla decima contestazione l'ufficio di protezione togli il programma e te l'ha tolto e te lo sei cercato quindi ci sono un sacco di gente in Calabria vai ultima domanda quindi la famiglia è la cellula base della società sana ma è anche la cellula base della società malata la famiglia negli ultimi vent'anni si è indebolita tantissimo e si distrugge molto prima delle scadenze naturali gli ecami del sangue non contano più possiamo sperare che questa debolezza della famiglia della società sana si tramuti anche in una debolezza nella società malata purtroppo no perché sai cosa succede che nella società cosiddetta normale nella nostra società noi genitori siamo molto egoisti siamo molto più egoisti dei genitori di 40 anni fa perché di 50 anni fa perché i miei genitori quando mia madre ci ha partorito noi siamo 5 figli dopo aver fatto i figli viveva in funzione dei figli oggi una donna a 50 anni a 60 anni si sente ancora giovane e quindi impiega utilizza molto del tempo per curarsi per farsi bella per essere sempre giovane e quindi dedica meno sempre meno tempo ai figli e allora i figli diventano sempre figli di internet figli degli altri figli dei social e l'indebolimento della famiglia è soprattutto dovuto all'egoismo di noi genitori e poi cerchiamo di comprare i figli comprandogli un telefonito da 700 euro che non ci potremmo permettere comprando un paio di scarpe da 300 euro la fine della famiglia è soprattutto è proporzionata all'egoismo dei genitori e per l'andrangheta invece non funziona cosa? per l'andrangheta l'andrangheta c'è un culto un'ossessione sui figli un'ossessione sui figli voi non avete idea come ritengono i figli ne parleremo magari l'anno prossimo ringraziamo davvero il dottor Nicola Gratteri grazie dottor Gratteri